Bentornati sul canale, qualche mese fa quando è uscito il DJI Mavic Air io avevo espresso la mia opinione di mercato di DJI dicendo che prossimamente sarebbe uscito il DJI Mavic Pro 2 ebbene si è stata confermata la mia teoria da rumors abbastanza affidabili vi lascio il link qua sotto di OsitanLV, non so se si dice così, comunque un canale Twitter dove sono già state postate le foto del DJI Mavic Air prima dell'uscita non so se è un dipendente dal DJI o è DJI stessa che pubblica queste cose per far crescere la curiosità bene ora passiamo alle caratteristiche tecniche ma prima vediamo il prezzo e la data d'uscita il prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai 1300 dollari, davvero tanto contando che il nostro DJI Mavic Pro è partito da 1000 dollari circa, 999 comunque questo prezzo è giustificato per le caratteristiche che dopo andremo a vedere seconda cosa la data d'uscita, data d'uscita si stima intorno marzo e giugno non si sa ancora bene quando, comunque di solito tutti i droni DJI escono prima dell'estate si può capire il perché il tempo di volo è stato ulteriormente implementato infatti si parla che arrivi fino a 33 minuti in overing in overing un drone di solito consuma maggiormente la batteria rispetto a un volo normale ora parliamo della videocamera e della gimbal la gimbal sicuramente verrà ripresa dal Mavic Air in quanto come forma e protezione è sicuramente migliore del Mavic Pro mentre la videocamera sarà in grado di registrare ovviamente in 4k ma attenzione perché sarà in grado di registrare fino a 60 fps mentre in 1080p quindi in full HD riusciremo ad arrivare addirittura a 100 fps quindi vogliamo fare uno super slow motion si potrà fare oltre a questo i motori saranno più grandi come si può vedere dai progetti quindi di conseguenza avremo un drone molto più potente, più veloce e soprattutto più preciso voglio arrivare a questo discorso perché sarà molto più simile a un Phantom 4 Pro come telecomando avremo sempre lo stesso con naturalmente il sistema Opux Sync che ci permetterà di arrivare davvero distanti e soprattutto dovrà essere molto più preciso come stick già questo è veramente preciso ma si arriverà a un livello tale di precisione come se avessimo veramente un Phantom 4 Pro non so se qualcuno di voi l'ha già provato ma se l'avete già provato capite il livello di qualità video e di precisione appunto di questo drone conclusioni generali si avrà in mano quindi un Phantom 4 Pro quindi parleremo anche che verranno implementati i sensori retro come abbiamo nel layer ma con la portabilità del nostro Mavic anche se i rumors dicono che sarà leggermente più grosso perché avrà i motori più grossi quindi dovrà supportare tutto il telaio eccetera comunque avremo un drone davvero incredibile spero che questi rumor siano davvero veri ma penso proprio di sì perché queste fonti sono certificate ho visto anche altri youtubers che ne parlano e youtubers molto influenti in questo campo spero di avervi fatto crescere la curiosità ne riparleremo sicuramente e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e vi piacciono i droni un saluto da Alessandro e la prossima domenica ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti